I residenti di Fallujah in fuga. La città irachena è teatro dell'offensiva dell'esercito di Baghdad contro i militanti di Al-Qaeda dallo stato islamico dell'Iraq del Levante, gruppo estremista sunnita che conquista terreno sia in Iraq che in Siria. La formazione ispirata d'Al-Qaeda ha fatto causa comune con i gruppi tribali sunniti a Fallujah e Ramadi in rivolta contro il governo di Nuri al-Maliki e le sue politiche ritenute discriminatorie nei confronti della popolazione sunnita. Sia l'Iran che gli Stati Uniti, alleati del premier shita, hanno parlato di appoggio a Baghdad ma gli USA escludono ogni intervento sul terreno. È fuori discussione il nostro ritorno sul terreno, è una loro battaglia ma li aiuteremo in questa battaglia e sì abbiamo l'interesse a farlo, abbiamo un interesse nell'aiutare il governo legittimamente eletto a respingere i terroristi. È una battaglia che va al di là dell'Iraq, ha detto il segretario di Stato americano John Kerry. Le forze speciali irachene hanno cominciato lunedì l'assalto alle rocca forti dei militanti del Qaeda, Ramadi e Fallujah ad ovest di Baghdad. Ora l'offensiva finale dell'esercito è soltanto questione di tempo, il tempo necessario di evacuare i civili. Secondo fonti delle forze armate irachene, in due o tre giorni i militiani saranno cacciati da Fallujah.